iscrivetevi a filmmaker channel mi raccomando questa iscrizione è molto importante dobbiamo stare tutti insieme su questo canale l'iscrizione è gratuita vi costa soltanto un click e poi siete iscritti perché cioè perché vi dovete iscrivere vi dovete iscrivere perché se siamo tutti quanti insieme diventiamo più forti vi dovete iscrivere perché così ci facciamo rispettare vi dovete iscrivere perché così ci possiamo confrontare l'un l'altro ci possiamo aiutare c'è una cosa che assolutamente secondo me non va bene molto spesso la parola filmmaker è associata se volete a qualche cosa che ha a che fare con la grande passione per il cinema oppure una sorta di piccolo dilettantismo non va bene non è così un filmmaker oggi è in grado non solo di fare un film di grande valore culturale ma anche in grado di lavorare per uno sponsor di fare un video di fare un documentario i filmmaker sono dei professionisti e noi tutti insieme se ci mettiamo tutti insieme riusciremo a dimostrarlo io voglio dare visibilità a ognuno di voi e ho bisogno del vostro aiuto ho bisogno della vostra iscrizione quindi click iscrivetevi a filmmaker channel